La provincia di Padova ha già stanziato i 4 milioni di euro e noi stiamo cercando di trovare una soluzione, quantomeno di dare un segnale. Ripeto che il ponte non è nostro come regione, abbiamo i nostri ponti a cui pensare, però è pur vero che è un'opera simbolo di un territorio che ha e produce tanto ed è anche un bel segnale che vorremmo dare. Lasciateci lavorare. L'alta Padovana merita di essere valorizzata per il grande contributo economico che dà al Veneto a partire dai collegamenti viari. Il presidente della regione, Luca Zaia, promette di interessarsi alla questione del ponte sul fiume Brenta di Curtarolo, gravemente danneggiato e molto pericoloso, tanto che da mesi il traffico dei mezzi pesanti è vietato. Di vieto spesso inascoltato, tanto che la provincia di Padova sta pensando di limitare la carreggiata per evitare il passaggio di camion furbetti, una scelta che però penalizzerebbe le tantissime attività imprenditoriali dell'alta. Di recente il presidente della provincia, Fabio Buia, ha anche scritto al ministro per le infrastrutture per chiedere l'aiuto delle istituzioni. La regione non ha competenza su quel tratto di Val Sugana, specifica Zaia, e quindi non può intervenire con finanziamenti, ma il governatore promette di pensare ad una soluzione. Non è una partita facile, visto che la regione, per quanto riguarda infrastrutture sue, ne ha tanti di ponti in quelle condizioni. Ne potrei citare uno per tutti, che è il ponte di Vidor, che è fratto un ponte storico. Dall'altro però, dico anche, che vogliamo essere presenti e cercheremo di trovare una soluzione per dare una mano. Non sarà facile, visto considerato che questa è una regione, l'unica in Italia, nel quale non si applicano tasse regionali. Alta Padovana che rischia di essere penalizzata anche dall'arrivo dei dazi americani, soprattutto per quanto riguarda il settore caseario. Zaia punta il dito sul governo. Dobbiamo continuare a tessere relazioni con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sanno che il Veneto è un territorio amico e che li ha ospitati, li ha sempre difesi. Penso che questi aspetti debbano essere valutati. Dopodiché abbiamo un governo che per via di relazioni diplomatiche langue, nel senso che oggi ci vorrebbe un governo molto più attivo, molto più presente. Spiccano di più le dichiarazioni di Trump che dice avremo un occhio di riguardo piuttosto che quelle dei nostri che si sono distratti e si distraggono quotidianamente.